Sì, sono usciti, è un rapporto che si fa ogni anno, adesso è uscito, come era giusto, il rapporto conclusivo che riguarda l'intera legislatura, una legislatura completa, 5 anni e devo dire con piacere, insomma sarebbe sbagliato non ammetterlo, sono al secondo posto, sono stato sempre in tutti gli anni nei primi posti e questo fa molto piacere ma soprattutto dà conto di un'attività che effettivamente è stata nel Parlamento in generale, nelle commissioni in particolare, in quella che si occupa di bilancio e di economia in particolare, sono stati davvero anni molto molto impegnativi. Con il voto del 4 marzo alle porte per il Parlamento uscente è anche tempo di bilanci e i dati ufficiali indicano più di una differenza tra i due senatori uscenti, i candidati al collegio uninominale del Senato, Bassano, Cittadella, Giorgio Santini e Niccolò Ghedini. La percentuale di presenza del senatore Santini è del 90,34%, quella di Niccolò Ghedini è dello 0,72%, vale a dire che l'assenza è del 99,28%. Molto diversa anche la produttività nella legislatura, Giorgio Santini è secondo in assoluto mentre Niccolò Ghedini è ultimo, ad esempio il dato degli atti legislativi è di 1717 per Santini e di 10 per Ghedini. Tra tutti quelli che hanno completamente snobbato il Parlamento sicuramente è il più rappresentativo, nel senso che è proprio anche, lo dice il rapporto chiaro, insomma ogni anno è stato tra gli ultimi, quest'anno nel rapporto finale è proprio l'ultimo. Ripeto, nessuna volontà di denigrare nessuno però candidarsi al Parlamento è un atto di responsabilità e anche una richiesta ai cittadini di un voto, che è un fatto importante, è lo strumento con cui i cittadini possono determinare, possono pesare nelle scelte poi che il Parlamento e quindi anche poi i governi faranno. Io penso che insomma se si chiede un mandato elettorale, se si chiede un mandato parlamentare è necessario poter dire che sicuramente sarà onorato, ecco questo io mi sento di dirlo, non voglio pensare altri però l'esperienza mi dice che quello che è successo è che altri non l'hanno fatto. Grazie a tutti.